Realizzare immediatamente una rotatoria in Viare della Repubblica sul Mona per la sicurezza degli automobilisti e la tutela della pubblica in columità. Con questo preciso obiettivo, residenti di Via Guido Piovene e Via Michele Torcia hanno depositato a Palazzo San Francesco una petizione per la costruzione della rotonda nell'incrocio di Viare della Repubblica all'altezza del call center 3G, un tratto di strada che sarà più volte teatro di incidenti stradali, anche mortali. La petizione, che conta le firme della gran parte dei residenti della zona, è stata depositata a Palazzo San Francesco all'attenzione del sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini. Siamo convinti che quell'incrocio, che in più di un'occasione si è rivelato pericoloso, abbia bisogno di una rotatoria per migliorare la sicurezza stradale e per una viabilità più tranquilla, intervengono in coro i promotori della raccolta firme. Un'iniziativa spontanea che prende spunto le diversi episodi che sono rimbalzati agli onori della cronaca e che hanno spinto i residenti del quartiere a chiedere con forza agli enti preposti la costruzione della rotatoria. Un'analoga richiesta senza petizione è stata fatta anche per l'incrocio di Via Pola sulla stradale 17, anche lì di incidenti se ne sono verificati e non pochi.